Massimo Giuliani, sindaco di Piombino. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Signor sindaco, Piombino è l'unico comune che non ha mai vinto il Paglio della Costa Etrusca. Speriamo che quest'anno possa essere la volta buona. Sì, speriamo, anche perché effettivamente non abbiamo ancora vinto. Sportivamente non auguro la vittoria, ma spero che il nostro comune possa ben figurare in questa bella manifestazione sportiva. Tra le altre cose quest'anno acquisisce anche un maggior significato agonistico, proprio perché si corre con cavalli in mezzo sangue. Quindi molto, molto interessante. Grazie mille signor sindaco. A voi.